Questo convegno è stato organizzato da docenti dell'Università di Napoli, di Salerno, di Roma. Ha coinvolto anche importanti personalità come Fausto Malcovati, per esempio, che è qui anche lui volontario per noi. Ha avuto il patrocino dell'Università Orientale e del Comune di Napoli, però è un convegno assolutamente autofinanziato e auto-organizzato. Una giornata di studi nella sala del capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore per proporre un approccio sistematico alla drammaturgia teatrale di John Ford, ultimo drammaturgo elisabettiano del 600 inglese, a partire da uno dei suoi capolavori riconosciuti per offrire riflessioni interdisciplinari grazie al confronto fra ricercatori e specialisti di studi letterali e teatrali provenienti da diverse università italiane, su un'opera che affronta una passione tumultuosa ed incestuosa che dagli inizi del 600 in poi ha attirato l'attenzione di importanti drammaturghi prima e di registi poi anche in Italia. Peccato che sia una sgualdrina o peccato che fosse puttana questo a seconda delle versioni. Ha avuto una grande fortuna in Italia, in realtà alla fine degli anni 50 Visconti lo ha proposto a Parigi in una famosissima edizione con Robin Schneider e Alain Delon e poi Ronconi ne ha fatto un doppio spettacolo nel 2003-2004. In mezzo però ci sono stati molti allestimenti in Italia, è un testo che ha tutto sommato una lunga storia. Per esempio c'è un film di Patroni Griffi che è Addio fratello crudele del 71, c'è uno spettacolo di Guicciardini all'Olimpico, c'è uno spettacolo di Aldo Trionfo a Genova sempre sullo stesso testo e un altro sempre all'Olimpico di Luca De Fusco. Quindi una grande fortuna e anche una grande fortuna nelle traduzioni. La scelta di Napoli per il convegno con il patrocinio del Comune di Napoli e dell'Università all'Orientale si deve al rinnovato fervore culturale della città che negli ultimi anni è stata anche importante sede di studi shakespeariani. con la presenza di Luca Ronconi nella sua versione del 2006, con la pubblicazione nel 2013 dall'editore Liquori dell'unica monografia italiana dedicata a Ford e con una versione dell'opera realizzata da Laura Angiulli nel 2016 per il Napoli Teatro Festival Italia. Un incontro lungo e cordiale ho avuto qualche giorno fa con l'ambasciatrice britannica a Roma che è venuta a salutarmi nel mio ufficio di Palazzo San Giacomo. Abbiamo discusso di tante cose ma soprattutto del legame culturale assai forte, storico, attuale e quindi anche per il futuro tra Napoli e Londra. Il teatro rappresenta sicuramente uno dei ponti principali di collegamento tra il Regno Unito, tra Londra e la città di Napoli che sono antiche e moderne capitali d'Europa e del mondo. Quindi noi, come ho detto anche oggi in questo incontro, stiamo considerando la cultura e quindi anche il teatro l'arma principale di riscatto della nostra comunità.